Signore e signori, partiamo con questo balletto, vi ricordo che questo spettacolo ci hanno voluto mesi, anni per prepararlo e quindi abbiamo la felicità e l'onore di presentare subito il trio delle bambine piccole, prima le presento vorrei qua in pista le tre bambine, per piacere entrate presentiamo le bambine vedi la su youtube bene, allora i tre bambini ci presenteranno un bel balletto e la visa darà via al balletto siete pronte? siete pronte? si parte? via via si parte? grazie a tutti 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 almeno fino a di felicità mia figlia bravi bravi mia figlia bravi 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 bravi